buon salve cari pixelini e benvenuti bentornati in questa nuova fantastica avventura di harry potter o what's mystery io continuo a evitare il l'evento di duellanti anche se ci da un nuovo incantesimo ma ragazzi io odio odio duellare soprattutto cioè in cinque giorni non si riesce a fare 40 duelli perché proprio non ci si riesce ma ragazzi dobbiamo andare avanti con la missione del batticuore siamo pronti per continuarla eccoci qua andiamo in cortile e vediamo subitissimo che succede nella puntata precedente ragazzi abbiamo incontrato penny e ora siamo di nuovo con penny che ci sta dicendo vai allo scoperto ma non credo che subito diremo a penny che ci piace non credo come butta rocky che fine avevi fatto e mi ero nascosto credo che bill sia qui per tenermi d'occhio sono quella tenere d'occhio charlie perché sta facendo con tulip charlie non si fa sciocchino siamo con penny che bello ora me la prendo non si fa non è molto meglio che nascondersi nella stanza di manufatti con un panino al tonno soprattutto visto che ci sarà molto più buona da mangiare hogwarts mica tanto stanno ridendo di noi non far caso a quelli rocky ora l'ammazzo ora l'ammazzo non l'ammazzo ora ragazzi è merula o merdula ci sta prendendo in giro quindi è merdula a più tardi penny e ora che affronti la situazione no ma abbiamo abbandono oddio però aspetta abbiamo abbandonato penny per andare da merdula malissimo buona fortuna ok avada cadav rivi alle mie spalle merdula sì mi hanno beccato mentre scrivevo un biglietto sì era per qualcuno che mi piace che c'è di tanto divertente in realtà non stavamo ridendo per quanto sono rigide le trecce di penny ci vorrebbe un tifone per scompigliarle oh ecco sapevo figura di merda che figura di merda sono trecce perfette è irritante l'ha detto lui l'ha detto un maschio l'ha detto perché sta la bocca aperta ma è buffo che tu pensi che tutti siano fissati con te i tuoi comportamenti ridicoli direi che possiamo aggiungerne un altro alla lista sì vabbè ho capito però c'è brutta cosa ragazzi se a voi aveste detto l'altra cosa cosa sarebbe successo sono molto curioso beh non mi va neanche che tu prenda in giro i capelli di penny allora sei arrabbiato pure per quello adesso non potete dare a me merdula un po' di privacy voi altri così devi sempre vedere se ne vanno così tranquillamente non pensavo che sarebbe andata così credevi che mi avresti schiacciata rispetto al tentativo almeno ma chi decide di sfidare merula snide deve essere pronto a perdere da quando parli di te in terza persona stavolta ci stava dai già che ci siamo come va con quella tua cotta patetica senti non c'è niente che tu possa dire per infastidirmi merdula ho fatto una bellissima chiacchierata con penny e sto perfino pensando di chiedere alla persona che mi piace di uscire oh la cosa ti stupisce mi interessa e ora lascia che ti dica perché è un'idea terribile questo equivale a un'ora di energia un'ora sola di energia ti vorrei l'umiliazione di oggi non ti basta fermati prima che sia troppo tardi inizia a sospettare che ti piaccia tutta questa attenzione anche se quella persona dice di sì potrebbe essere comunque un disastro non posso fare a meno di ascoltare pensa alla tua vita di... alla tua di vita sentimentale che non credo che ne abbia molta però poverina perché ci tieni tanto a dissuadermi merdula merdula perché è cattiva in questo momento è molto probabile che tu finisca col cuore spezzato e che te fregate forse dovrei ripensarci o forse no pensa se ti dicesse di no non è affatto improbabile non posso fare a meno di ascoltare ragazzi mi sa che abbiamo letto tutto esattamente sì abbiamo letto completamente ah no aspetta no quella era nuova l'umiliazione di oggi non ti... aspetta vediamo un po' se riusciamo a rileggerla vediamo vediamo non credo non ci riusciamo ma voi con il 2 di picca potete tornare il tuo video e scoprire il 2 di picca che cos'era mentre io raccolgo questa energia immagino che Penny Haywood ti abbia prospettato uno scenario eroseo era di certo molto diverso dal tuo scenario tragico Penny è la strega più popolare della scuola la vita che sorride io sono la strega più potente della scuola le mie aspettative sono più realistiche di chi ti... di qua ti fidi più? del potere o della popolarità? visto che il potere porta sempre il male preferisco essere popolare piuttosto che potente c'è chi dice che la popolarità e l'influenza che può derivarne sia una forma di potere allora seguirei il consiglio di Penny e chiederai a chi ti piace di uscire? se sei così convinta che andrà male perché non mi stai incoraggiando a farlo? la tua figuraccia di oggi mi darà materiali per mesi preferisco che tu distribuisca le umiliazioni nel tempo beh non è detto che ascolti il consiglio di Penny solo perché preferisco la popolarità cosa sarebbe successo se avessi scelto l'altra e soprattutto io non avrei scelto nessuna delle due perché per me nessuna delle due sono cose importanti c'è un'altra persona a cui voglio chiedere consiglio ma prima... ma ce ne vorrà per convincerlo a darmene uno con chi stiamo parlando ragazzi? stiamo parlando con niente un po' di meno che Bill andiamo subitissimo ragazzi a parlare con Bill in sala grande perfetto mamamamao si vola in questi video si vola una marea eccoci qua in sala grande andiamo a cercare Bill uh ho gente che ci vuole parlare qualcuno ha visto passare Thor? a te che ti perdi sempre con il cane ricordati di mangiare tanta verdura si 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 vorrei avere un tavolo privato e vai nella tua sala comune nel tuo letto fatto a posto grazie per essere venuto Bill di niente cercherare con te è sempre bello a proposito credo che Charlie sappia che lo stavi tenendo d'occhio in cortile bene voglio che sappia che suo fratello vigila in realtà è che così nostra mamma è più tranquilla il suo hobby sono i mostri sputafuoco è comprensibile vostra mamma si preoccupi in questo caso e per te questa informazione è un tuo diritto è che non so se tenerla per me anche perché se la teniamo per me non possiamo fare melamelo con Penny stavo pensando di chiedere a questa persona riuscire che strano dire in altavoce mi sembra perfettamente normale mi fa molto piacere sentirlo mi hai aiutato molto quando dovevo scegliere chi portare al ballo celestiale e hai davvero aumentato l'autostima di Rowan prima del ballo speravo che potessi darmi qualche consiglio a un fatto di vita sentimentale io? si tu vuoi che ti dica come chiedono alla persona che ti piace di uscire con te? si non è quello che ho detto? ma certo Bill Weasley è un guru che ha un fatto di vita sentimentale si sa se non ci fosse quell'altra Emily Tyler che c'è veramente ti sei per caso scordato di Emily Tyler? appunto ti ha trattato malissimo ah sai sempre come farmi ridere Rocky quindi ride quindi rido quindi ride quindi Bill ah dicevi sul serio? eh si diceva sul serio ragazzi 500 monettozze per questa amicizia sono la persona meno adatta a consigliarti un fatto di vita sentimentale Rocky perché ti fidi i miei consigli? ehm non mi hanno mai deluso ovviamente tac cioè sono Super Sonic eccoci qua più 14 perfetto forse hai ragione ma non sono ancora convinto allora parliamo di un altro po' è perché sono il più vecchio? ehm aspetta più vecchio più saggio? forse quella migliore esatto tac fatto allora era facile in effetti abbassiamo un pochettino il volume qua che mi sembra un po' troppo alto ok un grosso bonus non hai tutti i torti mi hai quasi convinto fantastico c'è dell'altro? ho paura di consigliare agli amici ehm credo in te credo in te com'è che era la canzone di Naruto? boh non me la ricordo c'è tre diamantini? d'accordo ti dirò come chiedere a questa persona di uscire scusa la persona vuoi uscire con me? sì no grazie fatto mi hai preso un po' la sprovvista se devo darti un consiglio non voglio sbagliarmi ma se hai bisogno di tempo per prepararti sì quando sarò pronto incontriamoci tre manici di scopa troveremo un modo per convincere questa persona a uscire con te mamma mamma ma direi che i consigli sentimentali li scopriremo nella prossima puntata direi che per oggi è tutto ci vediamo nella prossima puntata di Harry Potter e Ghost Mystery mi raccomando di iscrivervi al canale di attivare la campanella di fatemi sapere appunto chi volete invitare e se voi avete fatto diversi dialoghi eccetera fatemelo sapere qua sotto nei commenti direi che per oggi è tutto mi raccomando di un piaccio iscriviti al canale di attivare la campanella e che altro dire fatto il misgatto mamma grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti